Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio far vedere questi due ambisecchi sto pensando, come ho detto l'altra volta, di non fare più video sull'otto se mi vedete poco è perché ho il microfono qui e non ho acceso neanche la luce perché sto provando la videocamera perché più avanti voglio fare delle dirette, ma non so se le farò sull'otto adesso vediamo un attimo, comunque partiamo subito a vedere qui, come potete vedere, 3.11 su Napoli, Ambo secco eccolo qui, al dodicesimo, praticamente al dodicesimo Ambo mentre Torino 77.32 altro Ambo secco al terzo Ambo praticamente se aveste comprato l'altro programma Ambo secco vincente dove ci sono i primi quattro, su Torino l'avreste beccato mentre su Napoli no però oggi veramente e poi le altre sono uscite le ambate l'1 a Genova, il 4 a Cagliari e vabbè questi qui che vedete qui, 38 a 47 poi nelle altre vediamo comunque più o meno, ha qui dato di meno perché sono simili, non sono uguali i calcoli qui invece è adatto più o meno sempre i soliti con qualche ambate in più qui nell'equatero che è, nelle terni 3.11 Napoli anche qui 3.11, Ambo in terzina io non ho giocato neanche a Palermo meno male che non ho uscito niente perché sono in casa quindi sto facendo, sto rispettando il decreto e quindi sono in casa esco una volta settimana per fare la spesa e vabbè devo portare la spazzatura quando, per forza e niente, va bene qui 76 a 32 Torino Ambo in terzina anche qui farò le altre cose e la terza fila è quella che gioco io però su Palermo e sono usciti tutte e due nella terza fila 3.11 e 76 a 32 nella terza fila spero tanto che se sono impossibilitato da uscire e andare dal tabacchino che io non gioco e poi si verifica il terno è un po' frustrante e triste perché è da maggio dell'anno scorso quando mi era uscito uno a Palermo che più o meno gioco anzi no io ho iniziato a giocare il terno a settembre-ottobre da maggio in poi non l'avevo giocato però se dovesse uscire è frustrante perché veramente è triste per me perché sennò tutto l'anno con l'inseguo e poi mi va a uscire adesso che non lo sto giocando perché c'è sto cacchio di virus vabbè lasciamo perdere e quindi speriamo che nei giorni in cui non posso giocare che un nuovo gioco non esca niente va bene comunque sono contento dei miei programmi dei dislike che ho visto l'altra volta non me ne frega niente ragazzi cliccate dove volete però ricordatevi che se io poi non faccio più video sul lotto dovete guardare i video vecchi ovviamente che restano però ambi al primo colpo neanche le befane delle tavole delle cagate non vi daranno neanche loro perché non capiscono nulla quindi non date da loro non lo so fate un po' quello che volete voi non è che sono geloso invidioso di nessuno anzi il contrario semmai però ognuno va dove vuole ci sono tanta gente brava ci sono tanti bravi anche più di me forse non lo so perché poi non è che guardo gli altri però gli ambi secchi al primo colpo è difficile che li trovate oltre il mio canale comunque vabbè detto questo non è che voglio fare il figo però è così quindi stasera vediamo anche uno star dog ah no uno star dog il napoli niente però qui 76 e 32 77 e 32 ambo in sestina anche qui quindi niente ragazzi i gambi secchi stasera due Torino e Napoli 3 11 a Napoli e 77 e 32 a Torino più tutte le altre ambate ovviamente che avete visto il 10 e l'otto è uscito poca roba due numeri su sei e non di più e sopra non ho noto niente poi ovviamente non sto controllando tutti gli altri programmi perché non ne voglio e questo è anche un altro è un video dove dovevo provare anche la camera la videocamera che avevo quella piccolina che avevo che mi serve per dialogare un poco con gli altri anche con i parenti quindi speriamo che si veda non lo so forse non si vedrà neanche e va bene ci sentiamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi cliccate sul like dove volete iscrivetevi e mi fa piacere poi per gli imbecilli del dislike che ho visto l'altra volta sono solo degli imbecilli degli scemi non mi interessa neanche sinceramente l'importante è che guardate il video quello guardate tutto poi non mi interessa va bene ragazzi ci sentiamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi se non siete ancora iscritti e ringrazio i nuovi iscritti e i vecchi iscritti che mi seguono ho una pazienza di ascoltarmi e comunque guardate i miei dipinti perché non sono un ottoro sono un pittorato di data e ultimamente sto facendo anche una scultura del Buddha speriamo che sta venendo abbastanza bene però è abbastanza difficile otto perché è tanti anni che non prendevo in mano la creta va bene e guardate i miei dipinti su John Art Gallery di Gianfranco Sini sia su Instagram che su Facebook su Facebook ho due pagine una di quasi 13.500 che non mi ricordo e l'altra ne avrà centinaia non mi ricordo e su Instagram Gianfranco Sini di John Art Gallery sono io guardate tutti i miei dipinti ci sono tutti e vedete un po' voi va bene ragazzi vi saluto vi ringrazio e alla prossima e niente dai seguitemi se ne avete voglia se non ne avete voglia fate quello che volete acquistate i miei programmi mi raccomando su tutti i video metto i link sono sotto per chi interessa per chi interessa i miei programmi che sono questi e stasera comunque due ambi secchi non sono palle non è Photoshop e reale sono usciti due ambi secchi poi capisco che sono tanti ambi però farò altre cose ripeto a Torino se aveste acquistato il mio programma ambos e con vincente qui sono i primi quattro di questo programma qui sono i primi quattro sviluppi e qui si sarebbe preso lo stesso dei quattro ambi da giocare 32,77 mentre gli altri su Napoli no perché è uscito qui al dodicesimo va bene ragazzi vi ho detto tutto ci sentiamo al prossimo video comunque io non smetterò di fare video in generale perché farò sempre video però sull'otto ci sto pensando un attimo perché sono un po' stanco però vediamo un po' anche da se che non sia così vedremo ci sto un po' pensando perché sono un po' stanco di fare video sull'otto e ogni volta direi ragazzi oggi è uscito il Lambo oggi è uscito il Terno oggi è uscito questo oppure non è uscito niente la gente poi non la gente anche stupida che vede che magari non è uscito niente quindi non è per quello ma sono anche un po' stanco io sono 5 anni che faccio il video sull'otto mi sono anche un po' stancato però comunque avete a disposizione tutti i miei vecchi video tutti i miei metodi che ho messo in questi anni ci sono i link dei miei programmi sono lì io mi occuperò comunque sempre di pittura scultura e altre robe comunque non è detto può darsi che magari poi cambio idea e finora vi ho fatto vedere comunque quello che è uscito più o meno poi ripeto gli altri programmi c'è anche la cinquina John che qui non c'è perché qui sono sono racchiusi sei sono racchiusi sei programmi cioè cinque programmi in uno praticamente però ci sono anche gli altri che sono fuori da questo va bene ragazzi mi raccomando cliccate sul like dove volete guardate le mie playlist ho fatto anche delle musiche strumentali ho scritto anche dei libri fra le altre cose ho fatto tante cose poi potete anche guardare la mia pagina ebay se vi serve qualcosa qualche libro usato o qualche dipinto e vedete voi contattatemi e mi fa piacere va bene la pubblicità l'ho fatta ci sentiamo al prossimo video sperando che questa emergenza finisca veramente il più presto possibile perché non se ne può più né di stare in casa né di per tutte le nostre economie del nostro paese che è veramente speriamo bene va bene dai ci sentiamo al prossimo video vi saluto vi ringrazio buona serata a tutti ciao a tutti grazie a tutti ciao